Le pensioni maggiorate da pagare. 3 dicembre 1979. Muore Alighiero Noschese, imitatore e comico italiano. L'assistenza sanitaria, la questione sempre in aria della RAI. È considerato il più fecondo e popolare imitatore della storia della televisione italiana, oltre alla capacità di riprodurre in modo pressoché perfetto voce, e atteggiamenti, e caratteristiche fisiche dei soggetti delle sue imitazioni, Noschese riusciva a satireggiare in modo sottile e mai volgare, creando gag e battute pungenti. Filosofia siamese del 200, mitologia, uomini politici, in addoppio petto blu. Nel 1979, ormai al culmine della sua carriera, a soli 47 anni, si toglie inaspettatamente la vita con un colpo di pistola, mentre è ricoverato in una clinica romana per sottoporsi a una cura per la depressione. Aumenti prezzi e inquinamenti...